ciao a tutti oggi impariamo a usare le camere la camera come vedremo è lo strumento fondamentale per avere un punto di vista realistico su una scena 3d come vedremo in after effects ci sono due tipi di camera c'è la camera un nodo quella più semplice che vedremo oggi e poi c'è la camera a due nodi quella che ha un controllo in più che invece vedremo nella prossima lezione bene direi di cominciare subito per aggiungere una camera all'interno di una scena bisogna andare nel menu layer e poi andare in new camera immediatamente si apre una finestra per impostare i settings della camera innanzitutto in questo menu a tendina a sinistra bisogna decidere che tipo di camera usare come vi ho detto prima esistono due tipi di camera quella a un nodo e quella a due nodi oggi vediamo quella un nodo quindi questa qui il secondo parametro da impostare è la larghezza dell'obiettivo e questa la decidiamo in questo secondo menu a tendina preset qui come vedete abbiamo un elenco di obiettivi abbiamo il 50 mm che è l'obiettivo standard che si avvicina di più a quello che vede l'occhio umano e poi abbiamo altri obiettivi dal 15 mm che è l'obiettivo più largo al 200 millimetri che è quello più stretto bene in questo caso selezioniamo l'obiettivo standard il 50 mm tutti questi altri numeri che vedete qui nella parte bassa dipendono dalla scelta fatta nel menu preset per cui non li prendiamo in considerazione gli altri due comandi enable depth of field e lock to zoom li disattiviamo il depth of field cioè la profondità di campo ha a che fare con la messa a fuoco della camera ma questo argomento lo affronteremo più dettagliatamente in una lezione più avanti per cui come vedete gli unici due settings che impostiamo prima di creare la camera riguardano il tipo di camera in questo caso un nodo e l'obiettivo che montiamo sulla camera in questo caso 50 mm benissimo adesso possiamo dare l'ok come vedete adesso nella timeline si è aggiunto un livello camera 1 ora quello che noi vediamo nel monitor active camera è quello che vediamo attraverso il mirino della camera e come al solito se vogliamo avere un controllo migliore dell'oggetto camera all'interno della scena possiamo usare qui a sinistra il punto di vista più adatto in questo caso cambio il punto di vista da front a top ecco fatto ora seleziono la camera nella timeline e nel punto di vista top la camera come vedete si trova in questa posizione qui di fronte alla scena questo triangolo rosso che vedete qui sta a indicare la larghezza dell'obiettivo che nel nostro caso è 50 mm ora se adesso ci interessasse sapere a quale altezza la camera si trova rispetto alla scena potremmo usare il punto di vista left proviamoci subito mettiamo left e immediatamente riusciamo a capire a quale altezza la camera si trova rispetto alla scena questa è la camera questo è il prato e questi sono gli oggetti di fronte alla camera benissimo adesso però torniamo al punto di vista top bene adesso prima di proseguire e muovere la camera all'interno della scena vorrei provare a cambiarle l'obiettivo per fare questo dobbiamo tornare alla finestra introduttiva dei settings per farlo basta fare doppio clic sulla camera proviamo bene si sono riaperti i settings della camera li sposto un po più in basso rispetto ai due monitor e dal menu a tendina proviamo adesso a impostare un obiettivo più largo dello standard 50 mm e per farlo dobbiamo scegliere un obiettivo che abbia un valore minore di 50 proviamo il più largo che abbiamo a disposizione che è il 15 mm come vedete immediatamente il punto di vista sulla scena è cambiato vi faccio notare che la camera non si è allontanata dalla scena si trova sempre nella stessa identica posizione rispetto al prato e ai vari disegni soltanto per il motivo che monta un obiettivo più largo noi vediamo gli oggetti più piccoli di come li vedevamo prima notate anche il triangolo rosso che parte dalla posizione della camera che adesso è più largo rispetto al 50 mm di prima bene torniamo qui nei settings proviamo a cambiare ancora l'obiettivo questa volta montiamo un obiettivo più stretto quindi dobbiamo usare un obiettivo con valori più alti di 50 mm e quello più stretto che abbiamo a disposizione in questo caso il 200 mm proviamolo di nuovo la camera non si è spostata rispetto alla scena semplicemente l'obiettivo è più stretto di prima lo vediamo dal triangolo rosso che si è ristretto e in active camera vediamo quello che realmente la camera vede cioè questa porzione ristretta della scena un dettaglio della casa è un poco delle colline sullo sfondo è benissimo però adesso prima di continuare direi di ritornare all'obiettivo standard cioè al 50 mm e diamolo ok ora veniamo qui nella timeline e apriamo il contenuto di camera 1 come vedete ci sono due sezioni transform e camera options all'interno di camera options abbiamo diversi parametri il primo parametro lo zoom controlla la larghezza dell'obiettivo se io l'aumento come vedete si stringe l'inquadratura e se lo diminuisco ovviamente l'inquadratura si allarga notate però che la scala dei valori di questo parametro zoom non è uguale alla scala in millimetri che abbiamo visto prima nella finestra dei settings e in genere appunto si preferisce usare quella scala in millimetri che è più familiare per cui di nuovo facciamo doppio clic sulla camera riapriamo gli settings e rimpostiamo 50 mm da qua e diamolo ok gli altri parametri da depth of field in giù gestiscono il modo in cui la camera mette a fuoco gli oggetti all'interno della scena per cui oggi come ho già detto prima li ignoriamo ne riparleremo più avanti quando parleremo appunto della profondità di campo e della messa a fuoco bene quindi chiudiamo la sezione camera options e concentriamoci sulla sezione transform che contiene le classiche proprietà di posizione e rotazione in questo caso bene proviamo ad agire sulla proprietà position e in particolare sulla position x se lo diminuisco come vedete bene il monitor top la camera si sposta verso sinistra e in active camera che è appunto il punto di vista della camera vedo quello che la camera in questo momento sta inquadrando cioè la parte sinistra della scena se sposto la camera verso destra vedo la parte destra della scena vi faccio notare che soltanto gli oggetti che hanno il pulsante 3d acceso vengono inquadrati correttamente dalla camera mentre invece lo sfondo le montagne che avevamo lasciato 2d come vedete qua che non ha il pulsante del 3d acceso e quindi è rimasto 2d rimane appunto fisso sullo sfondo non reagisce al cambiamento di posizione della camera come se appunto la camera non lo inquadrasse le altre proprietà quelle di rotazione e di orientamento fanno quello che ci aspettiamo per esempio con la x rotation vuoto la camera verso l'alto o verso il basso questo forse lo vediamo naturalmente meglio nel punto di vista left infatti qui si vede molto meglio che la camera punta verso l'alto o verso il basso a seconda del valore di x rotation azzeriamola bene ritorniamo di nuovo al punto di vista top se agiamo sulla y rotation ruotiamo la camera a destra e a sinistra e se ruotiamo la camera sulla z rotation ruotiamo la camera intorno all'asse z abbiamo delle inquadrature oblique sulla scena e come già sappiamo la proprietà orientation ruota la camera allo stesso modo in alto in basso destra sinistra e inclinata a destra a sinistra in questo modo qua esattamente appunto come le tre rotation bene ora grazie a questa camera un nodo cercheremo di replicare il movimento in carrello da sinistra a destra su questa scena qui così come si vede in questo filmato cioè posizioneremo al tempo zero la camera a sinistra sulla scena e in cinque secondi la sposteremo verso destra come si vede bene qui benissimo quindi prendiamo il cursore andiamo al tempo zero spostiamo la camera a sinistra quindi agisco sulla posizione x direi di allontanarci sulla sinistra fino a questo punto qua circa ora prima di far partire il movimento verso destra decidiamo anche a quale altezza rispetto alla scena si trova la camera cambiamo momentaneamente il monitor di sinistra da top a left agiamo sulla posizione y in questo caso scenderei un poco più verso terra in modo che si veda un po più di prato in primo piano e io direi di fermarci qui benissimo torniamo di nuovo sul punto di vista dall'alto e ora accendiamo l'orologio di position della camera prendiamo adesso il cursore avanziamo fino a cinque secondi circa nella timeline benissimo in questo momento adesso voglio che la camera si trovi di fronte alla casa quindi agiamo sulla posizione x e ci fermiamo più o meno qua più che la casa al centro della scena vogliamo i personaggi della famiglia benissimo facciamo immediatamente una preview come vedete bene grazie al movimento laterale della camera abbiamo la netta sensazione che i vari disegni della scena siano distribuiti in profondità a varie distanze l'albero in primo piano ci sembra più vicino rispetto alla casa e la casa stessa ci sembra più vicina rispetto alle colline sullo sfondo e tutto questo ci dà un'idea più realistica dello spazio tridimensionale bene ora oltre a questo movimento laterale da sinistra a destra noi vorremmo creare un secondo movimento di camera che parte da un punto di vista più ravvicinato di fronte alla casa e avvicinandoci ulteriormente quindi abbiamo bisogno di una seconda camera che entra in funzione dai 5 secondi a 10 e questo naturalmente è possibile basta che noi trimiamo la coda della camera 1 quindi prendo il margine destro lo trascino e trimmo fino al secondo keyframe dell'animazione sulla posizione quindi noi vediamo la scena attraverso la camera 1 fino a 5 secondi e da 5 secondi a 10 torniamo ad avere quel punto di vista frontale statico che avevamo prima di inserire la camera all'interno della scena bene ora noi inseriremo una camera 2 e faremo sì che funzioni da 5 a 10 secondi quindi andiamo nel menu layer new camera di nuovo vogliamo una camera a un nodo quindi lasciamo invariato il primo menu qui sulla sinistra e come obiettivo questa volta ne usiamo uno un po più largo di quello standard quindi dal menu dei preset scegliamo un valore più basso di 50 in questo caso io scelgo un 28 mm benissimo gli altri parametri li lasciamo così come sono e diamo l'ok come vedete immediatamente la camera 2 è in funzione per tutta quanta la durata della composizione da 0 a 10 secondi ma noi vogliamo che entri in funzione da 5 secondi in avanti per cui prendiamo il margine sinistro della camera e lo trimiamo appunto fino a 5 secondi in modo che la camera esista soltanto da 5 a 10 secondi ora col cursore andiamo sul primo frame della camera attiviamo la sua posizione e questa volta clicchiamo il tasto p appunto per evidenziare soltanto la sua posizione e ci spostiamo con la camera un po più vicini rispetto alla casa quindi tanto ci abbassiamo con la posizione y un poco più verso terra ci avviciniamo con la posizione z più o meno così e in questo caso vediamo che abbiamo bisogno di abbassarci ancora un po quindi ancora un po con la posizione y all'incirca così e ci spostiamo anche un poco più a destra con la posizione x in modo che la famiglia sia al centro dell'inquadratura benissimo e ci fermiamo qui a questo punto accendiamo l'orologio di position prendiamo il cursore andiamo sull'ultimo frame a 10 secondi e semplicemente avanziamo verso la casa e quindi agiamo soltanto sulla posizione z e in questo caso direi di avvicinarci non più di così bene facciamo una preview da 5 a 10 per vedere se il movimento ci sembra giusto benissimo direi che ci siamo e ora vediamo le due inquadrature una in fila l'altra facendo una preview di tutta quanta la scena quindi all'interno della stessa scena abbiamo due movimenti di camera la camera 1 con un obiettivo da 50 mm si muove da sinistra a destra e la camera 2 con un obiettivo da 28 mm si muove in avanti benissimo per quanto riguarda la lezione di oggi ci fermiamo qua nella prossima lezione vedremo la camera a due nodi che ci permetterà di fare movimenti di camera più elaborati rispetto a quelli della semplice camera un nodo e quindi allora ci vediamo alla prossima ciao ciao